Ciao a tutti, sono Damiano Giavino, interpreto Enea, Il Nuovo Olimpo. Sono Greta Scarano e interpreto Giulia. Io sono Aurora Giovinazzo e interpreto Alice. Sono Andrea Di Luigi e interpreto Pietro. Io sono Alvisa Rigo e interpreto Antonio. Proviso però. Interpreto, interpreto Pietro. E adesso giocheremo a quanto conosciamo Ferza Nostetec. Vai, portavoce. No, no, tu, tu. Vabbè, questa è tranquilla. Vai, te la lascio dire. Ma l'hai già detta. No, no, vai, dilla, dilla. Prenditi il merito di questa tipo. No, no, insieme. Roma. Dovrebbe essere Roma. Roma. C. C, Margherita Bui. Io lo so. Vai. Margherita Bui. Ci andiamo. Corretta. Lecce. Lecce. A Lecce. La so. Anch'io lo so. Allora, dilla te. No, no, prenditi il merito, dirlo tu. Lecce. Mi è piaciuto. Ok, l'hanno detta loro. Sono comunque in vantaggio adesso. Ma perché? Non era una gara. No, no. Ho detto che non era una gara. La finestra di fronte. Ehm. Scusate. Troppo. Che fate? No. La finestra di fronte. Che t'ho detto io? Che t'ho detto io? Fuggelo così. La finestra di fronte. Mi pare. Io direi la finestra di fronte, sì. Beh, ma siamo troppo bravi. Siamo infallibili. No. Io penso in Istanbul. Ancora io penso in Istanbul. Pensiamo in Istanbul. Noi diciamo Istanbul. C. C. In Turchia. Ah, brava. Questa non la so. Stiamo cercando suggerimenti, ma nessuno ci li dà. D. Da un dipinto. Dipinto? Eh? La butto lì così. Vai. Un quattro. A. La finestra di fronte. Eh, penso... Penso anch'io. Cacchio, guarda. La finestra di fronte. Hai detto A. Ti sei buttata senza... Cioè, niente. Manca una parola ci dici. Sei la solista. Io... Mi butto in A. Quindi A. E. Yes. Sì, sì. È dietro a casa sua, oltretutto. Sì, sì, sì. Però anche l'ex pentatorio è dietro a casa sua. Eh, ma... Non mi ricordo in sequenza quella era B e C. Ah, vabbè. Lo diciamo. Ah, beh, questa la sappiamo. Questa la sappiamo. Questa è facile. Prego. Vai. Sì. Sì. Il gasometro. Il gasometro. B. Oddio, mi sono presa le responsabilità. Sono... E quindi? Cittatura. B chi è? Giorgia. Non lo so. Giorgia. Giorgia. È proprio così. Oh! Siamo di memoria. Vabbè, manca le parole. Vabbè, tu le parole le sai. Vabbè, tu le parole le sai. Eh, io le parole le so. Non la so, davvero, giuro. Dillo, dillo. Vai, dillo, dillo. No, no, dillo tu. Ma prego, dillo tu. Io ho cantato un po'. La Dea Fortuna. La Dea Fortuna. Sì. Grazie. Bagno turco. Accendiamo. Ah, è il nome. Non li ho visti recente. Io lo so. Vai tu. Sì. Eh, sì, sì, sì. Tu vai. Bagno turco. Eh, ma questa è difficilissima. Andrea. Io lo so. Giusto? Luca. Anche Andrea. Eh. Oh, però questo era trabocchetto. Secondo me rimaniamo nel mezzo. Facciamo prima. Sì. 13. Ti assumi tu la responsabilità. Mi ha suggerito male Susanna. Boni. Eh beh, ci abbiamo fatto le candeline. Quindi? 14. Eh. Vai Albi. Per il fatto che il film è comunque abbastanza adattato, potrei dire Rosso Istanbul? Sì, Rosso Istanbul. Non lo so, ma... No. Sincero no. Rosso Istanbul. Oh. Io avrei detto Margherita. Dico Ambra. Ambra Angiolini. Ambra. Ok. Ok, questa la sapevo. C. Noi pensiamo Serra. Vai, dì questo. Non lo so. Vai, vai, vai. Mi sembra che fosse un medico. Sì. Vabbè, ragazzi. Indizi? No. Niente indizi. Ci buttiamo? Ehi, sì. Ah. Uno. Uno. Non la so. Forse perché... Posso prendere una cosa di quelle che non subiene. Non la so, io non... Nazi kickback. Che immagino sia turco? Dai, io un po... Io facevo le versioni di latino così a scuola. Andrea, non sai niente. Non c'entra niente quello che dici. Ho fatto una cosa. Perché è agitato. Troppo agitato. Sì, sono molto agitato. La competizione lo ammazza. È tutta la questione. Vabbè, comunque. È un risero di tutti gli altri. In questo caso, è verona cosa ci facesse. In questo caso, è l'altro. È attrazione.